Musica Quattro giorni intensi di dibatti, di incontri, progetti per il presente e per il futuro. Si è chiusa ieri alla Villa Comunale Garibaldi di Gela la festa dell'unità promossa dal Partito Democratico. L'iniziativa, visto la partecipazione di numerosi esponenti politici, di professionisti, c'era anche la gente comune. Abbiamo fatto esattamente quello che si fa in una festa dell'unità, si discute, si ragiona e si mettono in gambo proposte. Lo abbiamo fatto sulla sanità, dove per esempio l'assessore regionale ha preso impegni precisi per qualificare al meglio la struttura, lo abbiamo fatto nell'agricoltura, lo abbiamo fatto nella scuola, sulle pari opportunità. Insomma, un dibattito di vendi parlamentari presenti, esponenti del governo regionale, dell'esecutivo nazionale del partito, è stata una straordinaria festa della politica e a Gela è ritornata una straordinaria festa delle opportunità e delle proposte. Tra i partecipanti è anche la sindaco di Gela, Domenico Mersinese. C'è del tenero con il Partito Democratico? No, assolutamente no. Alla festa dell'unità un microfono, come ho detto ieri, non si nega a nessuno. C'è un rispetto delle istituzioni perché lui è il sindaco della città e quindi è giusto che abbia portato un saluto, ma nel mio intervento spiegato con forza e in coerenza con quello che fa il gruppo consigliare, che noi siamo all'opposizione e lavoriamo per costruire un'alternativa a questa giunta. Ma cosa vuole rappresentare per la città, per il comprensorio, proprio la festa dell'unità? Guarda, dopo 16 anni riportare una festa dell'unità provinciale, con la presenza di dirigenti regionali e nazionali, con un partito che riesce a mobilitare venti parlamentari tra regionali e nazionali, esponenti del governo regionale, esponenti dell'esecutivo nazionale, mi sembra che questa sia la dimostrazione plastica della centralità che il Partito Democratico di questa città ha, ma anche dell'impegno che il Partito Democratico vuole prendere. Abbiamo perso le elezioni, ci siamo rialzati, ma siamo qui perché vogliamo lavorare per costruire una proposta nuova rispetto a un nuovo corso che il Partito Democratico si è dato. Io penso che il responsabile nazionale dei circoli, che è venuto nella giornata di venerdì, e il segretario regionale del partito hanno dimostrato che sono vicini a questo percorso e che il Partito Democratico della città è assolutamente centrale. Idee, progetti, però non vorremmo che poi rimanessero soltanto lette le morte. È esattamente quello che abbiamo evitato, perché sulla sanità, per esempio, l'assessore ha preso degli impegni precisi e circostanziati, sull'agricoltura l'assessore ha preso impegni precisi e circostanziati, e nelle prossime settimane noi dimestiremo che questi impegni li manteniamo, perché abbiamo tanti difetti, ma siamo un partito politico, come primo punto. Secondo punto, noi abbiamo la volontà di voler rispettare gli impegni che prendiamo nella città, con un filo di coerenza precisa. Siamo all'opposizione rispetto a questa giunta, ma siamo una grande forza di governo, regionale e nazionale, e questo peso, in positivo, vogliamo portarlo nel bene della città. Però un microfono non si nega a nessuno. No, non solo un microfono non si nega a nessuno, ma la festa dell'unità è esattamente un'opportunità di discussione per tutti, anche da punti di vista diversi. Abbiamo avuto anche professionisti e esponenti di altri partiti che sono venuti a discutere, voglio dire. Non mi sembra che sia questo il tema. Il tema della quattro giorni della festa dell'unità è quella che, ripeto, si può stare all'aperto, siamo ritornati all'aperto perché noi riempievamo i teatri, i cinema, l'abbiamo dimostrato ed è una cosa risaputa. Noi siamo andati alla Villa Comunale a parlare con Gendinari e con cittadini su dieci temi diversi, tutti di importanza baricendrica, e lo abbiamo fatto con la convinzione di sapere che noi abbiamo delle proposte importanti per questa città e che queste proposte possono essere utili per rilanciare una città che sta soffrendo. Si rinnova un appuntamento molto importante nella parrocchia Sant'Antonio di Gela con l'ottobre missionario. Tanti sono gli obiettivi che sono stati raggiunti, quali invece quelli che si devono raggiungere quest'anno, nel 2016? L'ottobre missionario che si celebra nella parrocchia è la celebrazione che si unisce alla celebrazione in tutta la Chiesa universale, che oggi ricorda il nostro spirito missionario, ricorda che siamo Chiese, quindi siamo Chiesa missionaria, come ci ricorda il Papa, siamo Chiesa in uscita. Quindi il primo grosso obiettivo di tutti i gruppi missionari è quello di ricordare questo, ricordare che siamo una Chiesa missionaria che ha bisogno di guardare fuori alle tante povertà e quindi sia quelle vicine, non solo perché adesso abbiamo povertà magari che sono più visibili e vicine, ma anche alle tante altre povertà che ci sono e poi anche quelle lontane. Il gruppo missionario di Gela in modo particolare è legato negli ultimi anni a un gelese, che è il padre Giovanni Salerno, fondatore del nostro istituto missionario, che io per grazia di Dio ho avuto il dono di incontrare e che mi ha fatto innamorare della Chiesa, della missione e quindi il gruppo è da sempre legato a questa figura. E gli obiettivi, più che obiettivi, io direi che sono miracoli, perché è partito lui da Gela, è partito solo, è iniziato un'opera grande che attualmente accoglie circa 1200 bambini, però proprio in questi giorni stavamo facendo con gli altri padri missionari un piccolo calcolo. Quest'anno è la ventesima generazione di bambini che escono dalle nostre scuole, quindi in questi vent'anni ci sono stati venti generazioni che hanno attraversato tutta la formazione, hanno ricevuto formazione intellettuale, tutta la formazione dell'obbligo, formazione professionale e questo ha voluto dire anche seguire le loro famiglie e questo ha voluto dire un'impronta forte sulla Cordilliera delle Ande, quindi tra gli indios della Cordilliera. Gli obiettivi futuri sono, da un paio d'anni a questa parte sono state aperte le porte del Perù e si sono aperte nuove realtà a Cuba, dove adesso tra l'altro si trova il padre Giovanni Salerno e il prossimo mese, proprio il mese di novembre, apriremo una casa, le nostre suori apriranno una casa in Messico, in un bario periferico di Guadalajara e quindi sono obiettivi non piccoli, però come sempre quando si è in mano una missione con 1200 bambini e circa 800 famiglie, l'obiettivo è già di mantenere quello che c'è, che non è poca cosa. Iniziativa internazionale Europe Code Week alla scuola di Cosorito di Gera, l'obiettivo è quello di offrire ai giovani e ai giovanissimi l'opportunità di iniziare a programmare la settimana europea della programmazione promossa dall'Unione Europea allo scopo di favorire un'appropriata educazione al pensiero computazionale. Un progetto che vuole potenziare il pensiero computazionale, cioè i bambini devono imparare a calcolare però secondo una sequenza processuale che servirà nella vita loro lavorativa, in quanto oggi si lavora in modo diverso, non più convenzionale, non con dati statici ma con modalità tecnologiche diversificate e oggi i bambini hanno concluso la loro attività con questo ballo che in qualche modo vuole simulare la modalità della macchina che si muove con dei processi. Questa sfida consiste nel coinvolgere il maggior numero possibile di alunni. Se noi come scuola riuscissimo a coinvolgere più del 50% degli alunni iscritti allora riusciremmo ad avere un certificato di eccellenza da parte della comunità europea. Io penso che in questo noi siamo riusciti perché abbiamo coinvolto non il 50% ma credo proprio che la totalità degli alunni dalla scuola dell'invanzia alla scuola primaria. Noi stiamo portando i bambini a cercare di usare nel miglior modo possibile il pensiero computazionale sperando di esserci riusciti in questa settimana perché come diceva la collega abbiamo impegnato più del 50% di tutti gli alunni. L'abbiamo fatto sia in classe che fuori e speriamo che sia una cosa ben riuscita e continueremo ad andare avanti sempre così. Non ci sono aule e noi facciamo lezione all'aperto. Alunni e insegnanti del liceo scientifico Elio Vittorini di Gela protestano così contro la mancanza di classi che si registra nell'istituto di via Pitagora. Il dirigente scolastico Angelo Tuccio denuncia il rimpallo di responsabilità tra i vari uffici della provincia e chi ne piange le conseguenze sono gli studenti. È chiaro che io voglio che i nostri alunni abbiano aule, dotazioni, un ultimediale e tutto ma quando a fronte di numerose richieste la provincia si fa sorda e non sembrano esserci altre soluzioni, l'unica soluzione possibile sembra quella di fare lezioni all'esterno. Quindi se odolato la scuola è una scuola attiva, una scuola aperta al territorio, una scuola propositiva, una scuola di eccellenza viene pertanto penalizzata perché questa scuola è una scuola che fa numeri e allora noi numeri non li dobbiamo fare, noi dobbiamo privare i ragazzi del loro diritto allo studio. Dobbiamo fare delle gradatorie. Chi può andare al liceo scientifico, al liceo linguistico e chi non può. Queste sono le decisioni che la provincia prenderà. La nostra scuola ha lanciato una petizione che è visibile sul sito, sull'ombeggio della nostra scuola www.liceovittorini.gov.it, una petizione visibile per che si propone comunque l'ottenimento delle aule necessarie che spero la cittadinanza tutte ferme. Un luogo che guarda già come far diventare un centro importante a livello internazionale, un luogo importante come il museo della nave destinato a custodire dei reperti importanti, delle navi che hanno una valenza storica e scientifica notevole. Ma accanto a quello che può essere l'importanza delle reperti che deve scustodire, ci è stato fatto invece un lavoro a contorno per far conoscere questo museo, per rendere questo museo un museo vivo, un museo degno di essere vissuto a 360 gradi dove sarà possibile avere uno scampio continuo tra il nostro mondo e il mondo passato che è destinato ad essere messo dentro queste mese. Un brand, devo dire, di alta qualità che ha ripercorso un po' la storia dell'individuazione del reperto archeologico in mare, alla descrizione delle varie fasi del ritrovamento, sino alla individuazione del luogo dove sorgerà il museo, allo studio del progetto e delle sue linee importanti e da questo ne ha tratto un logo che a mio parere è bellissimo. Per me è stato un piacere realizzare tutta la visual del futuro museo della navigazione e quindi per me è stato veramente un onore poter nel mio piccolo realizzare e dedicare la mia tesi progettuale alla mia città. Come ho detto prima ho realizzato la visual del museo della navigazione e quindi la veste grafica del futuro museo e ripeto e sottolineo, credo fortemente nel turismo che questo museo potrà portare nella nostra città. La forma etagonale è stata la visione di tutta questa visual, presa appunto dalla struttura del futuro museo della navigazione e realizzato dal rendering che io ho visto realizzato dall'architetto Ettore Di Mauro. Da qui nasce il simbolo distintivo dell'intera visual che poi è stato declinato sui vari artefatti grafici. Terza edizione di Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole, si è svolta nell'istituto comprensivo Gianni Verga di Gela diretto da Via Naldisio. L'iniziativa promossa dal centro per il libro, la lettura e dalla direzione generale per lo studente è finalizzata a portare la lettura nelle scuole in forme inedite, diffondere il piacere della lettura tra i ragazzi e sottolinearne l'utilità per la crescita sociale e personale grazie all'esperienza diretta con i testi e attraverso l'ascolto e il confronto con insegnanti, compagni e autori. La motivazione per cui in realtà continuiamo a promuovere a scuola la lettura del testo e del libro e creare momenti di incontro con l'autore è proprio per dare quel valore aggiunto alla lettura che nelle scuole chiaramente è una pratica fondamentale del fare didattica, ma sicuramente deve essere corredato di tutti quelli che sono i momenti di incontro fra il libro, i ragazzi, gli alunni, i lettori in erba che cerchiamo di far maturare come lettori consapevoli e sicuramente gli autori. Ospite della giornata è stata la scrittrice Lina Maria Ugolini, poetessa e cantafiabe. Questo libro tengo particolarmente, è un libro che tra poco andrà anche in ristampa perché è legato anche a un progetto di adozione a distanza. Io ho rinunciato ai miei diritti d'autore proprio per essere coerente con il tema della scrittura e qual è questo tema. Questo libro affronta il problema del lavoro minorile, infatti il protagonista, Jamil, è un bambino che lavora come schiavo nei campi di cotone in Egitto. e la scrittura in modo sia molto vero, a volte anche crudo, ma nello stesso tempo anche fantastico, quindi perché abbiamo anche questo colore indago che permette a questo bambino di superare i momenti dolorosi della propria vita rifugiandosi nel mondo delle fiabe. E' un modo per proprio raccontare in maniera vera e lieve questa grande piaga che ancora oggi ovviamente è legata a molti bambini del pianeta proprio che sono costretti a lavorare come degli adulti. A partecipare all'autore iniziativa Lina Orlando, esperta esterna. Non molti sono abituati a leggere e conoscere l'autore del libro che ci viene proposto magari ci aiuta a leggere il libro con una diversa chiave. Libriamoci è una bella esperienza perché ci permette di unire il piacere dello studio a quello della lettura, gli argomenti che trattiamo in classe con gli insegnanti, a ciò che ci piace fare nel nostro tempo libero e quindi studiare divertendoci, ampliare la nostra cultura ed immergerci insieme a tutto l'istituto nel mare della lettura. Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi domenica dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Si chiama Tanto Manitella, nuova fatica letteraria di Renato Corrodoro. L'opera mette assieme storie semplici che cercano di raccontare il buono e il bello che ci può essere nella vita ordinaria, quella di tutti i giorni, quella del lavoro, della famiglia, degli amici, di una vacanza, di una passeggiata, quella di incontri più o meno casuali in luoghi più o meno usuali. Il volume è stato presentato ieri nella scuola Quasimodo di Gela. Nonostante i ragazzi siano ormai disorientati, attratti da tante cose che li allontanano prima di tutto da loro stessi, non tanto dalla scuola o dagli insegnamenti, ma il problema grosso è che li allontana da loro stessi. Purtroppo i modelli sono quelli che sono, bisogna cercare anche un po' da adulti e prendersi la responsabilità di forzare un po' la mano, cioè di non aver paura di osare. Quindi tante volte si asseconda l'aspettativa del ragazzo o della famiglia, per quanto so la difficoltà in cui si incorre, però bisogna usare. Non c'è altra alternativa, magari andando incontro a dispiaceri, però è una cosa di cui bisogna avere cura e premura. A me interessa che qualcuno si senta coinvolto in questo progetto, mettendoci del proprio impegno, una propria iniziativa, un'attenzione, che purtroppo per la distrazione di cui accennavamo prima viene a mancare. E di conseguenza non mi basta ricevere dei complimenti di cui non me ne faccio niente, apprezzamenti che lasciano il tempo che trovano. La manifestazione è stata presentata dal giornalista Domenico Russello, il dirigente scolastico Maurizio Tedesco. Altri giorni avremo anche la presenza a scuola di attori che cercheranno anche di animare la lettura di alcuni testi classici. Però ci tengo a sottolineare il fatto che in realtà noi a scuola promuoviamo la lettura sempre, perché per esempio una delle iniziative che da qualche anno ormai quasi fa è quella di leggere il libro del mese, e quindi è una cosa che normalmente noi facciamo. Però è importante, così come sottolineava l'autore del libro, educare i ragazzi a sapere osservare, a sapere criticare, a sapere ascoltare, perché probabilmente questo è il primo passo per poter costruire qualcosa di nuovo, per poter essere cittadini consapevoli è ovviamente quello in cui tutti noi speriamo. Però per poter raggiungere questo obiettivo è importante che i ragazzi vengano educati all'osservazione, alla critica. E quindi la lettura certamente è uno strumento importante, perché i tempi della lettura sono i tempi della riflessione, sono i tempi della consapevolezza. All'orizzonte si profila l'ennesimo rinvio delle elezioni dei libri consorsi. Ad esprimersi sull'opportunità di un rinvio è stato ieri il presidente della prima commissione affari istituzionali, Salvatore Cascio. Durante la seduta dell'Assemblea regionale siciliana, Cascio ha dichiarato apertamente che se si andasse al voto con le regole attualmente varate, ci sarebbe un enorme rischio di discresia nella rappresentanza dei comuni. E adesso cosa accadrà? Lo abbiamo chiesto al portavoce del Comitato per lo sviluppo dell'area giolese, Filippo Franzone. La Regione, dopo l'ennesimo pasticcio, dovrà tornare a legiferare nuovamente sull'argomento dei libri consorsi di città metropolitane. Per l'ottava volta dovrà modificare nuovamente la legge. Per quello che noi abbiamo appunto segnalato, per la carenza del voto ponderato, ma non solo. Il presidente Cascio, durante la sua esposizione dei fatti in Assemblea regionale, dice che ci sono diversi problemi. Ovviamente non citano il problema vero e più grave, quello delle variazioni territoriali e che causa il maggior mal di pancia a tutti i 90 parlamentari regionali. Ma abbiamo detto da tempo che le elezioni non si svolgeranno e non si potranno svolgere per gli enti intermedi siciliani se prima Gela, Piazza Mirina e Niscemi non vengono ricollocate all'interno della città metropolitana di Catania. Anche questa volta lo avevamo previsto, dice Franzone, non ci hanno ascoltato e adesso i fatti ci danno ragione. L'abbiamo sottolineato il 28 luglio, siamo stati gli unici ad accoggerci che c'era un problema con il voto ponderato appunto di differenza tra peso dei vari comuni, tra quelli andati al voto a giugno e quelli che invece non avevano votato nelle ultime elezioni. Lo abbiamo segnalato a giugno, c'è stata la pausa estiva, la regione ha voluto perdere tutto questo tempo fino ad oggi. Oggi si sono accorti che il problema non è segnalato a luglio, è un problema reale e non si può andare avanti. Ma oltre ad aver segnalato questo problema abbiamo segnalato anche l'altro problema. Va completato tutto l'iter della legge 15 del 2015, ovvero va completato anche l'articolo 44 che è l'articolo che permette le variazioni di Gela, Piazza Mirina e Niscemi all'interno della città metropolitana di Catania. Senza questo completamento non si potrà andare neanche in futuro alle elezioni degli enti intermedi. Franzone interviene anche sulla nomina di Catano Armao che farà parte del pool di avvocati che seguirà i comuni coinvolti nelle variazioni territoriali. Quello che si impugna è un atto amministrativo che ne consegue appunto la legge 15, quindi quello che si tentava di impugnare erano appunto le elezioni dell'ente intermedio. Dovremo attendere ovviamente nuovamente. Giovedì hanno detto che probabilmente voteranno questa legge all'Assemblea regionale e quindi sposteranno le elezioni degli enti intermedi entro gennaio del 2017. In contemporanea con 92 città italiane e in 16 paesi europei si è svolta anche a Gela la giornata europea della giustizia civile. L'obiettivo è stato quello di creare un momento di informazione e confronto tra operatori della giustizia e cittadini. Il notariato italiano ha deciso di aderire al progetto denominato Scuola Legalità con iniziative specifiche rivolte ai cittadini per far conoscere i principi del diritto italiano e europeo e spiegare il ruolo che il notaio pubblico ufficiale delegato dallo Stato svolge in Italia e in Europa. Appuntamento alla Liceo Classico Eschilo e alla Liceo Scientifico Elio Vittorini. Sicuramente la scuola a partire da oggi ha instaurato un rapporto di collaborazione con i notaio di Gela per cui avremo senz'altro degli incontri sulla tematica dell'educazione alla cittadinanza e alla legalità perché comunque l'incontro di oggi si inserisce in questo contesto. Ma con l'associazione dei notari di Gela, con il notariato di Gela abbiamo, ci siamo accordati che potremmo organizzare un percorso di alternanza scuola-lavoro. Quindi diciamo che questo è l'inizio di una speriamo proficua collaborazione anche perché la scuola non può essere sola un'isola, la scuola deve per forza relazionarsi perché è giusto che i nostri studenti abbiano una visione completa del territorio che li circonda delle attività e delle aziende che operano nel nostro territorio. È una giornata che serve a rappresentare ai cittadini la possibilità e i metodi che hanno per tutelare i propri diritti tramite le figure che sono tipiche per la tutela dei diritti medesimi quindi la figura del magistrato, dell'avvocato. Noi ci siamo soffermati particolarmente su quella del notaio perché in primis è una delle professioni meno conosciute all'esterno e poi per rendere i dotti ragazzi anche sotto un profilo preparatorio di quella che potrebbe essere la loro futura professione di quello che è il notariato e in che cosa consiste la nostra professione. Devono nascere con quest'idea della legalità dall'inizio perché la legalità serve in tutti i momenti della vita, serve per seguire tutto un percorso, iniziano un percorso e lo devono completare fino a livello professionale, attività, lavoro, nell'ambito della famiglia, sotto tutti i punti di vista. Capire quali sono le norme che regolano la convivenza tra i soggetti, quello che è giusto fare, quello che non è giusto fare, sia nei rapporti appunto con gli altri perché le norme riguardano sia i rapporti anche familiari ma i rapporti anche all'interno della scuola, i rapporti all'interno della società, quindi questo è importante sia a livello dell'ordinamento italiano ma anche importante anche l'ordinamento europeo perché permette anche di, ormai siamo parte dell'Europa e quindi anche gli scambi commerciali avvengono anche tra i paesi europei e quindi è importante anche conoscere le norme di diritto.